E' insomma niente, due volte al giorno mi ha sto cuore che batte a duemila. Ma io lo so qual è il motivo a sto maledetto lavoro, pieno di sacrifici, scadenze, responsabilità. Che lavoro fa, scusi? Spaccio. Mia moglie è una grandissima zocco. Si è portato a letto un cretino di Francoforte! No, io so disperata, sta sempre col coso in mano. Col coso? No, no, mica quello! No, quello l'ha visto lei. Ci sono due anni che ci ha lasciato, ci ha fatto proprio ciaoni! Ho preso buca anche con la mia collega, Nora. E dove l'aveva portata? A scena da mamma. Era giovedì, aveva fatto i gnocchi, che facevo? Gli lasciavo là. Sorpresa! Dottore! Dottore? Dottore! Dottor! Vabbè comunque andiamo a strigna, che c'è dovete dire? Per motivi di salute, momentaneamente non potrà più seguirvi nel vostro percorso di cura. Una settimana? Un mese! Per sempre, nel giro di tre mesi sarò completamente cieco. Cioè, stanno un sacco di ciecati che hanno fatto delle cose fantastiche. Omero, per esempio. Bravo! Perché Stevie Wonder, che t'ha fatto? Si può guarire. Comincia a guardare le cose in maniera un po' diversa. Perché non ne approfitta per vedere tutte le cose belle che non ha mai visto? C'è un giro di una secca. Possiamo aiutare noi. Qui c'è scritto che questo quadro si chiama La Madonna dei Palafregneri. Vedi poi c'è scritto pure a sti cazzo. Avete sentito che ha detto? Aiutare Marcello è la miglior terapia che abbiate mai fatto. Troglodita! Sei morta da sei anni, ancora non te l'hanno detto. Grazie dottore, spero che mi sia utile. Però mi raccomando, non te lo mangiare.